qui che mi dice che ci dice adesso il detto la candelora in lingua aschitana aschitana di casale d'aschi nella marsica come si dì com'è in lingua scritta nel detto la candelora se scede mezzo verne e se ne sono solette scede mezzo vernetto se ne sono solo solone scede mezzo vernon quindi bisogna dire che se scede insieme una bella giornata di sole grande allora mezzo verne le abbiamo fatte però se ne sono solette giusto per allora questa è infatti la metà degli verni ripeti allora ripeti in lingua aschitana di dirlo un'altra volta da capo allora se ne sono solo solone quando è la candelora se ne sono solo solone mezzo verne è scelta fuori fa pure rima no se ne sono solette è scelta mezzo vernetto grazie amelia